ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto utile per questo periodo ovvero il periodo dei viaggi delle vacanze viaggi in aero viaggi in treno anche viaggi in macchina sto parlando come si legge anche qui dalla custodia di un cuscino da viaggio in memory foam quindi non si tratta di quei cuscini con dentro il polisterola pallini o quelli che si gonfiano e magari lo usate uno due volte e si deformano si buccano ma un cuscino in memory foam davvero comodo andiamo ad aprirlo insieme innanzitutto arriva all'interno di questa confezione barra custodia che come vedete è di una stoffa direi quasi impermeabile si apre così e all'interno non trovate soltanto il cuscino da viaggio ma trovate anche la benda per andare appunto a porla davanti agli occhi durante il viaggio quindi dormire e poi ci sono anche dei tappini per l'orecchio quindi per evitare di sentire rumori e stare tranquilli il marchio è kenstone spero di averlo detto giusto vi lascio comunque il link in descrizione del prodotto e adesso vado ad aprirlo come vedete è arrotolato in questa forma diciamo un po a conchiglia vado a tirarlo fuori così possiate vederlo eccoci qua scusate che non ho con me a disposizione il cavalletto ma comunque vi faccio subito vedere il colore è rosa però ci sono anche diversi altri colori vediamo se mette a fuoco come vedete una volta tolto dalla confezione si gonfia diciamo prende misura e questa qua è la forma quindi andate a metterlo in questa posizione ci sono anche questi cordini regolabili che vi permettono quindi di chiuderlo aprirlo a dipendenza di come lo desiderate e come vedete il tessuto è veramente morbido memory foam si adatta la cosa bella è che potete andare a svitare a togliere estrarre scusate tramite questa zip il rivestimento adesso vi faccio un attimo vedere e andarlo quindi a lavare nel caso appunto lo sporcate o sudato come vedete questo è un memory foam molto comodo e devo dire che la parte interna a questo non so se riuscite a vedere questo tessuto diciamo che evita di sudare e non irrita la pelle mentre qua è davvero morbido quindi questo è il prodotto se volete delle dimensioni ve le dico subito abbiamo esattamente 24 cm per 28 cm e poi niente come altezza siamo sui 12 cm vi leggo le informazioni direttamente dalla pagina dove l'ho acquistato il prezzo è sui 10 euro qualche ora in più qualche euro in meno magari lo trovate anche voi in offerta come l'ho trovato io vi lascio comunque ripeto il link in descrizione va bene per il viaggio in macchina treno aereo e poi la comodità è che una volta che l'avete usato lo arrotolate e lo mettete comodamente nella custodia che vi ho fatto vedere quindi ce l'avete lì aereo e poi